Ciao a tutti ragazzi, io sono Diego Anakin e oggi faremo un bel video diverso dal solito Infatti oggi spacchetteremo un nuovo pacco Che è questo? E lo spacchetteremo pure insieme E quindi, iniziamo Io ho già idea di cos'è che è questo pacco Questo qui dovrebbe essere la mia fettorina nuova del motocross E iniziamo a spacchettare Saluta Chià, non è mai stata sul canale Però c'è sempre una prima volta, vero Giulio? Allora, questo qui è un coltellino professionale per aprire il telefono Useremo per spacchettare Infatti spacchettiamo Apriamo Nell'unboxing, ovvero, ci deve essere pure io Perché se no Sì, no, mi do una mano Allora, ecco la qui, già la vedo, è un'alpine star Alzo? Sì, alzo Aspetta, aspetta, prima vi faccio vedere Tiene un attimo la cosa per unboxing Questa qui è la fettorina Eh, ma dietro c'è pure un'altra cosa Vabbè, ora lo spacchettiamo Allora, vediamo Iniziamo dal prendere su questa cosa qui Guardate la fettorina Dopo la spacchettiamo tutti insieme Qui c'è un secondo pacco Non so che cos'è Manco io Qui non c'è più niente Ok, ora non c'è più Vediamo qui cos'è Questo qui è un bel tavolo professionale per gli unboxing Allora Dobbiamo scoprire come funziona Questo qui non so cos'è Qui non c'è più Allora, qui c'è un coso che dopo vediamo Credo che si aggrappa e poi si mette pure qui Per aprirlo bisogna premere questo tastino qui E si apre E poi lo si mette qui dietro Mettiamolo qui dentro per bene E dove se li mettono qui dentro Ah, perché qui non si è fuso Ok La fettorina Ma guardate quant'è grossa la fettorina Allora Vediamo com'è un po' la fettorina Vediamo come funziona pure Ok Allora Tanto non sarà mai ASMR Sentiamo Ok La fettorina è qui Ah, capito Ora l'ho capito Praticamente Ora vi spiego Questa fettorina qui Si collega alle brace Che è questo Cavola Ok ragazzi Si era scaricata la burro Però ora è ricollegata al filo Proviamo per la prima volta La fettorina La mettiamo dentro qui Dovrebbe funzionare così Si Infatti funziona così Poi la mettiamo sempre qui dentro Ma si stacca Infatti ora Le spalline Possono anche toglie Poi in teoria Questo qui Si dovrebbe poter collegare a Questa fettorina qui Vediamo in che modo Ora quindi Così un gancetto lì Stata che ve li faccio vedere Più da vicino E' un gancetto qui Guardate Ok Penso che avete visto Io non so Qui ci sono due gancetti Che la tengono giù E voilà Diego Poi si mette il casco E si può andare in giro Credo che le spalline toglierò Perché Sono fastidiose Invece Come si toglie Così Oh che fresco Eh ci vuole Comunque è tutto perfetto Ragazzi Per questo video è tutto E Giulia vai Ragazzi Se mettete like A questi video E iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Ciao Almeno qualcuno Che dice la roba giusta Adesso veramente Ciao Ciao